Era tutta una questione di chimica Pura e semplice chimica animale Non sempre conosciamo gli oscuri segreti che ci accompagnano nella vita Ma se il proprio destino è scritto nel sangue A nulla vale cercare di resistere Ma dove può portare l'amore? Mentre una guerra centenaria è imperversa Una passione sconvolgente Cambierà il destino di molti Il primo romanzo della serie La confraternita del pugnale nero di J.R. Ward Al primo posto nella classifica del New York Times Un앞 da più, mi def Da più No, no 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 Grazie a tutti.